Il Tartufo Presidenziale Progetto biodigestore, il comune di Terre Roveresche ricorre al Tartuf contro la proroga di un anno concessa dalla provincia a Feronia per l'inizio lavori. In dieci anni il nostro sistema produttivo ha perso oltre un terzo delle aziende guidate da under 35, si tratta purtroppo di un record nazionale. Secondo i dati del turismo 2023, resi noti dalla regione, Grotta Mare avrebbe registrato un calo del 50%, ma il sindaco non ci sta. Benvenuti a All News, prima edizione e buongiorno all'ospite in studio e con noi Moreno Bordoni, segretario CNA Marche. Ben ritrovato e a breve sarò da lei. Grazie per il gentile invito e buongiorno a tutti i telespettatori. Sabato, intorno alle 11.30, la Premier Giorgia Meloni sarà ad Acqualagna, città natale di Enrico Mattei, per la firma dell'accordo di coesione tra governo e regione. Annuncerà i dettagli del patto finora sottoscritto solo con la Liguria. Arriverà assieme al Ministro Raffaele Fitto e battezzerà la Fiera del Tartufo, che sarà inaugurata proprio sabato mattina. Lo ha comunicato il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, con un post sui social. Le Marche, ha detto Acquaroli, sono la seconda regione in Italia a giungere a questo importante risultato, per il quale ringrazio il governo e tutte le strutture tecniche. Si tratta di 330 milioni di risorse FSC, il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, a cui si ne aggiungeranno altri 40. Sarà presente anche l'assessore regionale competente, Francesco Baldelli. La leader del governo, dopo la firma, sarà tra gli stand della 58esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco. Tra gli ospiti d'onore, anche il direttore del Tg5, Clemente Mimun, che per l'occasione riceverà il premio Ruscella d'Oro. E torniamo ad occuparci della vicenda della discarica di barchi a terre roveresche in provincia di Pesaro e Urbino. Ed è l'intenzione della ditta Ferroni è di realizzare sul posto un biodigestore. Il sindaco Sebastianelli, da sempre contrario, ha fatto ricorso al TAR contro la proroga di un anno concessa dalla provincia per l'inizio ai lavori. Lino Balestra. Il comune di terre roveresche ha depositato un ricorso al TAR contro la proroga di un anno concessa dalla provincia di Pesaro e Urbino a Ferroni a SRL per l'utilizzo e l'inizio dei lavori di realizzazione del biodigestore, senza la quale l'iter si sarebbe chiuso il 26 luglio scorso con l'impossibilità definitiva della ditta a costruire l'impianto. A confermare l'impugnazione dell'atto davanti al Tribunale amministrativo regionale e a ripercorrere le fasi che hanno condotto alla proroga è il sindaco Antonio Sebastianelli. L'autorizzazione a realizzare il biodigestore rilasciata dalla provincia il 7 luglio 2022 prevedeva come termine massimo di inizio lavori il 26 luglio di quest'anno con ulteriore prescrizione a Ferronia di trasmettere alla Regione il contratto d'acquisto del terreno almeno 30 giorni prima, cosa non effettuata. L'11 luglio invece, quando è scaduto il tempo utile per inoltrare agli uffici regionali il contratto definitivo di disponibilità dell'area, la ditta ha chiesto alla provincia il differimento dell'inizio lavori al 30 giugno 2024 e la provincia, dopo appena 13 giorni, gliel'ha concesso, nonostante il fatto che la mancata trasmissione del contratto di acquisto del terreno nei termini fissati avrebbe dovuto rappresentare essa stessa motivo di rigetto dell'istanza. La nota con cui la provincia ha attribuito la proroga mossa a un'assoluta coerenza di istruttori a riguardo alle motivazioni che sono quelle di consentire alla ditta di partecipare alle procedure per gli incentivi indette nel 2023, quando un primo cospicuo contingente di accesso ai fondi si è tenuto nei primi mesi di quest'anno, è la presunta impossibilità della ditta stessa di accedere ai finanziamenti bancari a causa di giudizi pendenti, vale a dire i ricorsi del nostro comune e del comitato cittadino a difesa del territorio al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che rigettò la nostra richiesta di annullamento dell'autorizzazione a costruire l'impianto, in definitiva questa proroga è inammissibile e continua a tenere in vita un progetto in base alle regole fissate proprio dalla provincia in sede di attualizzazione che doveva essere invece archiviato. Shock questa mattina a Fincantieri nel porto di Ancona dove un operaio è stato trovato appeso a una corda all'interno di una nave in costruzione. Immediati soccorsi sul posto un'ambulanza con gli operatori sanitari che sono riusciti a rianimarlo, il suo cuore è ripartito ed è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette in condizioni critiche. Grave incidente sul lavoro per una donna scolana di 48 anni avvenuto nel pomeriggio di ieri in un'azienda di San Benedetto del Tronto che si occupa della produzione di alimenti vegetali mentre era intenta a svolgere le sue mansioni un braccio le è rimasto incastrato in un macchinario della linea di produzione immediatamente soccorsa dai colleghi di lavoro e stata poi affidata le cure del 118 vista la gravità della lesione è stata chiamata l'eliambulanza per il trasferimento al trauma center dell'ospedale di Torrette di Ancona sul posto anche vigile del fuoco e carabinieri. Mettiamo il turismo sotto sopra è lo slogan scelto dalla CGL delle Marche per parlare in un convegno di lavoro, sostenibilità, precariato e sicurezza in uno dei settori chiave per lo sviluppo della regione. Sentiamo Manolita Scocco. 46.000 dipendenti, il 61% ha un contratto part-time e più a tempo determinato, l'11% ha un contratto stagionale. Sono per lo più donne, il 60% e under 30, il tutto per un totale di 10.309 imprese. Sono i dati principali presentati dal centro studi della CGL Marche su dati IMSS 2021 in occasione del convegno che ha richiamato i principali stakeholders del comparto. Le prospettive occupazionali che potrebbe garantire il settore del turismo sono enormi, solo che attualmente non sono prospettive di qualità e di prospettiva, perché il lavoro è prevalentemente un lavoro precario, irregolare anche in molti casi, molto marcato dalla stagionalità e quindi nel contesto complessivo non risulta attrattivo. Non vengono rinnovati i contratti nazionali, quindi non garantiscono retribuzioni sufficienti e soprattutto non viene riconosciuta la professionalità e non ci sono adeguati percorsi di formazione e riqualificazione in un settore fortemente dinamico e che muta costantemente anche in ragione dell'ingresso della digitalizzazione, pensiamo solo questo. Noi stiamo cercando di fare questo cambio di passo per riuscire a dire che la stagione deve essere tutto l'anno. Noi abbiamo un punto di debolezza ma che è anche un grande punto di forza, possiamo sceglierci il turista, possiamo andare sui mercati internazionali a sceglierci la tipologia del turista e quindi secondo me va fatta una azione forte di comunicazione, di promozione, soprattutto sui mercati internazionali per andare quando loro hanno le vacanze scolastiche e quindi noi possiamo veramente far sì che la stagione turistica diventi una stagione lunga 365 giorni e questo fa sparire il precariato e ogni forma di incertezza. Segretario Bordoni, restiamo sulle imprese, si è registrato un crollo delle aziende di under 35 per le marche c'è la maglia nera nazionale, in dieci anni chiusa una ditta giovanile su tre, è un dato molto preoccupante perché non c'è futuro. Ma un primato di cui avremmo fatto volentieri a meno, l'istituto Guglielmo Tagliacarne ha fatto questa rilevazione e sotto certi aspetti me lo aspettavo visto che noi siamo la regione più artigiana d'Italia e più manifatturiera d'Italia e dopo le difficoltà, degli ultimi dieci anni ovviamente questa maglia nera purtroppo tocca alle marche. Noi dovremmo invece riflettere molto bene su come dobbiamo in realtà supportare i giovani imprenditori, non soltanto all'inizio della propria avventura ma anche durante il consolidamento e la crescita perché il dato ci fa chiaramente capire che i nostri giovani imprenditori, gli che sono il futuro della nostra economia, hanno bisogno di un maggior aiuto da parte degli istituti di credito, maggior aiuto da parte delle università per una formazione costante, per trovare anche i dipendenti subito in grado di dargli una mano nello sviluppo dell'attività e sotto certi aspetti a mio avviso deve anche cambiare un po' la cultura delle famiglie che negli ultimi anni si sono un po' allontanate dal grande valore che l'artigianato e il sapere fare impresa ha per la nostra economia. Si va fermata questa emorragia di imprese di giovani, un'altra minaccia è rappresentata dall'inverno demografico della popolazione con meno di 35 anni. Questa è una minaccia che la nostra regione ha da tanto tempo, le ultime rilevazioni hanno acuito questo dato, siamo una regione anziana sotto certi aspetti è anche una fortuna perché si vive di più e si vive meglio rispetto ad altre regioni, però dobbiamo anche attrezzarci per il ricambio generazionale, abbiamo grandissimi problemi anche nei passaggi generazionali per quello che riguarda le imprese e questo è un altro tema molto importante che dovremo con le istituzioni affrontare in maniera molto molto impattante perché il nostro futuro dipende anche da questo. Grazie Moreno Bordoni per questo primo significativo intervento. Ancora cronaca, i carabinieri di Montegranaro hanno eseguito un'ordinanza arrestando un 38enne di origine marocchina che nonostante la sua detenzione domiciliare doveva ancora espiare una pena residua di 3 anni e 7 mesi per reati di danneggiamento aggravato e continuato e lesioni aggravate commessi nel dicembre 2017 e nel febbraio 2018. Il destinatario della misura si è visto notificare un ulteriore provvedimento restrittivo di esecuzione delle pene concorrenti emesso dall'ufficio di sorveglianza di Macerata. L'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Fermo dove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria. I dati comunicati dalla Regione Marche sulla flusso turistico da gennaio ad agosto 2023 evidenziano un calo del 50% delle presenze a Grotta a Mare dato contestato dal Sindaco Rocchi. Il servizio è del Benedetto Marinangeli. Sindaco Alessandro Rocchi, 50% in meno di presenze nel periodo estivo a Grotta a Mare. Cosa è accaduto? Sì, probabilmente si tratta di un errore dei dati che comunque sono ancora non definitivi, sono dati provvisori. Sicuramente è un dato errato perché noi ci basiamo un pochettino su quelli che abbiamo come comune come dati oggettivi che sono gli incassi della tasse di soggiorno. Noi abbiamo incassato, quindi effettivamente versati dagli operatori, una somma maggiore rispetto a quella del 2022. Quindi il giudizio che noi possiamo trarre da questo dato è che sostanzialmente il dato dovrebbe essere comunque come quello dell'anno precedente se non in aumento. Quindi qualcosa c'è che non va in questi dati che sono stati comunicati. Quindi quello che posso dire è che la parte del settore alberghiero ha retto quello che sono i numeri dell'anno precedente, quindi le presenze sono rimaste quasi invariate. Può essere un errore fatto dalla Regione Marche sui dati che sono del settore extra alberghiero, quindi bed and breakfast, camping, seconde case. Il dato del 2022 forse era troppo alto perché c'è pure questo da tenere in considerazione. L'anno scorso anche noi con cautela abbiamo commentato i dati che davano un esplode di grottamare forse che andava anche oltre quello che era la realtà. Quindi bisogna forse prendere i dati con le molle, con le pinze e vedere un po' anche forse il trend pluriannale, considerare forse anche il 2020, il 2021, confrontarli con il 2022 e il 2023 per capire quello che è il trend. Io quello che posso ribadire è questo, che anche dalla percezione avuta durante la stegione estiva sicuramente non c'era stato questo tracollo che viene riportato sui giornali, confermato poi dall'incasso che abbiamo avuto della tassa di soggiorno che nel nostro comune si applica per i mesi di luglio e agosto e le condizioni sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente. Quindi se fosse stata una diminuzione del 50% avremmo dovuto avere un incasso ridotto della metà, cosa che non è avvenuta. Avete comunicato questi dati alla Regione Marche, avete avuto qualche risposta oppure no? Abbiamo, diciamo, come abbiamo appreso dalla stampa di questa situazione, abbiamo inviato una pecca alla Regione Marche chiedendo dei chiarimenti. Dal momento attuale ancora non è arrivata, diciamo, una spiegazione, ma io penso che anche la Regione attenda un pochettino perché i dati, come dicevo, erano provvisori, quindi stavano rivedendo alcuni dati di alcuni comuni, probabilmente anche quello di Grotta Mare. Moreno Bordoni, con lei torno sul nostro tema settimanale, quello dell'energia, transizione ecologica, green, c'è un'autoproduzione, un progetto da parte di CNA Marche? Sì, un input che la CNA nazionale per prima in Italia ha dato al governo per permettere ai piccoli e medi imprenditori l'autoproduzione energetica con l'installazione di impianti fotovoltaici in tutti i nostri opifici, in tutte le nostre fabbriche, in tutti i nostri laboratori. Quindi una grande opportunità per lavorare sempre di più in quello che è diventato ormai un progetto ineludibile, la transizione ecologica, ma anche la possibilità di far risparmiare tanta energia ai nostri imprenditori che non vorrei che si dimenticasse mai sono oltre il 95% dell'ossatura vera dell'economia del nostro paese. Quindi due grandi obiettivi nello stesso progetto che il governo ha recepito e si potrà fare anche attraverso i fondi del PNRR con agevolazioni che permetteranno questo. Quindi una grande vittoria della nostra associazione, ma soprattutto una grande vittoria per gli imprenditori che se lo meritano. L'export ha salvato l'economia regionale? Ma io dico che lo possiamo gridare. In effetti in questi dieci anni difficilissimi gli unici dati sempre in aumento, soprattutto nella nostra regione, sono stati quelli dell'export. Quindi questo dimostra che nonostante la selezione naturale dovuta a queste difficoltà, non ci siamo fatti mancare niente in questi anni, una guerra nel cuore dell'Europa, il Covid, il mercato cinese il più importante del mondo per un anno ancora fermo rispetto agli altri, la difficoltà di trovare materie prime, il loro costo esageratamente aumentato, con l'inflazione e i costi del carburante alle stelle. I nostri imprenditori hanno dimostrato di essere maturi e in grado, nonostante queste straordinarietà, di essere protagonisti nei mercati internazionali. sapere affrontare le emergenze è diventato una capacità quotidiana dei nostri imprenditori, che ormai sono imprenditori all'altezza della situazione e io penso che sono la grande speranza per il futuro di questa regione. Grazie ancora segretario, ci saluteremo tra poco. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 8.45 con tre automezzi in via Spadolini a Osteria Nuova nel comune di Montelabbate in provincia di Pesaro Urbino per l'incendio di due autovetture per un cortocircuito. Una classe A è andata completamente distrutta. La squadra sul posto ha spento le fiamme e messo in sicurezza le auto coinvolte, una delle quali appunto era alimentata a GPL, sul posto la polizia locale di Pian del Bruscolo. Incidente stradale tra due autovetture nella tarda mattinata di oggi nei pressi dell'azienda in via Fermana Nord tra Monte Granaro e Monte San Giusto è intervenuta anche l'eleambulanza. Energie rinnovabili e intelligenza artificiale sono protagoniste dei lavori in ascesa. Vediamo. Secondo il World Economic Forum, gli specialisti di intelligenza artificiale e machine learning sono in cima alla lista dei lavori in rapida ascesa, seguiti da specialisti di sostenibilità e analisi di business intelligence. Altri settori che si prevede cresceranno sono quelli legati alle energie rinnovabili e alla mitigazione del cambiamento climatico. Ciò si riflette nelle aspettative quasi universali di crescita per gli ingegneri delle energie rinnovabili e per quelli che lavorano, per esempio, su sistemi a energia solare. Lo stesso vale per gli specialisti della sostenibilità e per i professionisti della protezione ambientale. Oggi siamo nel pieno del cambiamento climatico, il Covid ha sparigliato le vite e poi c'è l'intelligenza artificiale che toccherà tutte le professioni. Alcune spariranno e altre saranno modificate. Ma quali mestieri sono nei sogni dei ragazzi di oggi? Da un'analisi di ad ecco volano psicologi e nutrizionisti, crollano archeologi e cantanti. Il creatore di contenuti attrae 4 persone su 10, mentre fuga dall'artigianato. Nell'arco di 10 anni il mondo è cambiato e anche le preferenze lavorative tramonta l'ambizione di diventare giornalista, avvocato o youtuber. Sale quella per diventare medico o infermiere, ma ancora di più influencer. Se fare il calciatore in Italia è un evergreen, con un interesse del più 27%, non è la professione sportiva più in crescita. Al primo posto troviamo quella del pilota, che cresce del 44%. Meno appeal genera invece l'allenatore, che cala del 9%. Sono ridotti a lumicino le botteghe artigiane che ospitano calzolai, corniciai, fabbri, falegnami, fotografi, lava secco, orologiai, pellettieri, riparatore di elettrodomestici, sarti. L'artigiano di domani sarà colui che vincerà la sfida della tecnologia per rilanciare anche i vecchi saperi. Ancona è il miglior ospedale d'Italia. Insieme a quello di Rozzano, nel milanese, si legge sul rapporto dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. L'ospedale di Ancona ha avuto una valutazione di qualità alta o molto alta in almeno sei aree cliniche su otto. In particolare è tra i migliori quattro centri d'Italia per la chirurgia oncologica. Il progetto CTE Square del Comune di Pesaro si è giudicato il riconoscimento speciale FERPI della settima edizione del Premio Nazionale Innovazione e Sviluppo Next Generation 2023, promosso da Anci Piemonte con la collaborazione di Anfov e di Anci Nazionale, la premiazione avvenuta ieri a Genova. Siamo arrivati in fondo, riguardiamo insieme le principali notizie di oggi. Ecco il sommario. Sabato la Premier Giorgia Meloni sarà ad Acqualagna per la firma dell'accordo di coesione con la regione, un tartufo presidenziale. Progetto biodigestore, il Comune di Terre Roveresche ricorre al TAR contro la proroga di un anno concessa dalla provincia a Feronia per l'inizio lavori. In dieci anni il nostro sistema produttivo ha perso oltre un terzo delle aziende guidate da under 35. Si tratta purtroppo di un record nazionale. Secondo i dati del turismo 2023, resi noti dalla regione, Grotta Mare avrebbe registrato un calo del 50%, ma il sindaco non ci sta. Potete vederci anche sui vostri smartphone collegandovi al sito tvrs.it, seguendo ovunque vi troviate la nostra diretta streaming. Su utvrs.it invece ci sono le notizie aggiornate dei fatti che avvengono nella regione Marche. Bene, è tutto per la prima edizione di All News. Io ringrazio infinitamente il segretario CNA Marche Moreno Bordoni per essere stato con noi. Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie a voi per l'attenzione. Ora ci sono Sigla, Meteo e All Sport. L'informazione della rete torna questa sera alle 20.15. Da parte mia l'augurio di una buona giornata. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, cieli coperti con pioggia abbondanti. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. In montagna, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. Grazie.